Trilus aveva ragione in un certo senso perché racconta nella sua poesia sulla statistica quella che è una misura che si usa in genere per descrivere una carattere, una variabile, un fenomeno che è la medialità medica. Quindi se ci sono due persone, una ha mangiato due polli, una ne ha mangiati zero, una ne ha comprati due, una non ne ha potuti acquistare nessuno perché in realtà Trilussa si riferisce alla possibilità di comprarli, in media è stato mangiato o acquistato un solo pollo. Però va aggiunto a quello che diceva Trilussa proprio per dare senso e significato a quella che è comunque una misura molto importante che rappresenta un fenomeno, cioè la medialità medica, che in genere è utile accompagnare questa medialità medica con una misura della dispersione, della variabilità del fenomeno tra le diverse unità statistiche che ne sono portatrici. Parafrasando l'esempio di Trilussa e quindi continuando a fare riferimento ai polli, possiamo avere una distribuzione un pochino più complicata di quella a cui fa riferimento nella sua poesia il poeta e quindi avere per esempio cinque individui di cui due mangiano zero polli, uno ne mangia uno, anzi ne acquista uno, continuando a riferirci all'esempio che fa Trilussa, un altro ne acquista due e un quinto individuo ne acquista dodici. La misura media, uno più due più dodici fa quindici, diviso cinque è tre, la misura media di questa distribuzione, la media retta medica è pari a tre. Se guardiamo per esempio a un altro valore sintetico che rappresenta questa distribuzione, che la può rappresentare attraverso un numero, è dalla mediana. La mediana in questo caso, che è il valore che ripartisce la nostra distribuzione, 0, 0, 1, 2, 12, il valore mediano è 1 e quindi se già accompagniamo la media con l'indicazione del valore mediano, questo ci dice che la distribuzione, essendo il valore mediano fortemente inferiore al valore della media retta medica, che la distribuzione è diseguale e che è schiacciata verso la parte bassa dei valori, e quindi che in realtà sotto il valore medio c'è un importante segnale di diseguaglianza. È chiaro che se riportiamo questo esempio su grandezze, con numeri più importanti, con una frequenza anche di osservazioni molto più ampia, come può essere per esempio quella relativa al reddito, anche qua accompagnare il valore medio con il valore mediano è un'indicazione molto importante per capire effettivamente intorno a questa media come si distribuisce la popolazione delle famiglie che sto osservando. Quindi se il valore mediano, come spesso e in genere accade, è inferiore al valore medio, questo ci dice, per esempio nel caso di una distribuzione del reddito, che c'è un 50% almeno della popolazione che ha il proprio reddito pari o inferiore a quel valore mediano. Quindi è chiaro che se ho un valore medio più alto del valore mediano, il valore mediano mi aiuta a capire che anche in questo caso la distribuzione di questo fenomeno, il reddito, è in parte maggiormente schiacciata verso i valori più bassi. Una misura sintetica di una distribuzione va sempre accompagnata con un'indicazione relativa alla sua variabilità, e quindi a quanto il fenomeno è distribuito in maniera diseguale o meno tra le unità statistiche che ne sono portatrici. Quindi in genere si accompagna l'indicazione sul valore medio con una misura di questa variabilità. Ce ne sono tante a disposizione, dal più semplice campo di variazione, che è la differenza tra i valori estremi, per poi arrivare alla varianza, allo scarto quadratico medio, deviazione standard, fino ad arrivare al coefficiente di variazione e ad altre misure che dipendono ovviamente anche dalle caratteristiche del fenomeno e della variabile che si sta osservando. Dallo spunto di Trilussa si possono prendere una serie di indicazioni utili per migliorare l'informazione statistica che viene fornita agli utenti.